Ritorna l'appuntamento con i libri, i nostri consigli di lettura dalla libreria Padre Pio a San Giovanni Rotondo. E allora, come ogni settimana, partiamo subito con un libro dedicato al Santo di Pietrelcina e ad una sua figlia spirituale, Edizioni e Padre Pio. Padre Pio e Raffanina Cerase, una storia di umanità e di fede. Questo libro è a cura di un confratello di Padre Pio che si chiama Fra Fortunato Grottola. Leggiamo un passaggio in cui appunto si racconta dei dialoghi che sono intercorsi tra Padre Pio e Raffanina Cerase, dialoghi sull'esperienza di Dio. Scrive Fra Fortunato, gli scritti di Raffanina sono letterariamente ricchi, pieni di femminilità e di intuizioni del divino, ma attraversati da una malinconia esistenziale, segno di quella insicurezza che rivela due caratteristiche del nostro tempo. Il bisogno di paternità è il rifiuto della perdita. Sono i due segni che attraversano il nostro tempo come risposta e spesso giustificativo di fronte all'inspiegabile. Freud descriveva l'insorgere della religione all'interno di un bisogno di paternità. Oggi è facile trovare l'alibi per orrendi delitti e per insuccessi nella vita, dando la colpa a paternità fallite o inesistenti che hanno marchiato inesorabilmente all'esistenza delle persone. Si potrebbe continuare ad analizzare tanti malesseri del nostro tempo e non sarebbe difficile leggerli come un segno di insicurezza dovuto alla mancanza di un punto di riferimento. Probabilmente dovremmo riflettere sul nostro modo di proporre la fede. Spesso non abbiamo più il mordente. Sembra che la nostra pastorale abbia perso la sua capacità di offrire una direzione. Dei punti di riferimento etici certi, ma anche una prospettiva di eternità. E se per tanti versi si notano, vuoi nel recupero della religiosità popolare, vuoi nella maggiore consapevolezza di fede e nel bisogno di aggregazione di tanti credenti, dei segni di ritorno alla fede, emerge il paradosso che avvolgeva l'esistenza di Raffelina. Alla fede si chiede sicurezza, protezione, miracoli ed è anche un percorso di vita, a volte pure rigoroso e severo, ma non si accetta che la fede sia direzione quando questo è sinonimo di spogliarsi, di accettare una paternità che non sia mero accompagnamento, ma diventi condivisione. Siamo nel luglio del 1915, vi leggo quest'altro passaggio. Raffelina si rivolge a Padre Pio, priva di ogni umano conforto mi rivolgo a Gesù, confido nel suo cuore buono, egli che è la resurrezione e la vita, egli non deve abbandonarmi in balie di me stessa, trovandomi tanto, tanto cattiva e ingrata alle sue grazie, ma nelle fiamme del suo amore deve bruciare tutte le mie colpe e farmi ricominciare una nuova vita. Un libro davvero ricco di spunti di riflessione, che potrete tenere sul comodino e magari leggere anche dei piccoli passi al giorno per scoprire davvero questa bella figura di figlia spirituale di Padre Pio, Raffelina Cerase, naturalmente a colloquio, a confronto con il santo di Pietrelcina. Una storia di umanità e di fede, Padre Pio e Raffelina Cerase a cura di Fra Fortunato Grottola. E allora, edito dalla San Paolo con Elisabetta Fezzi, un libro che in un certo senso non avrebbe neanche bisogno di presentazioni, perché il protagonista è uno dei più grandi esorcisti della storia, Padre Amort, La mia battaglia con Dio contro Satana, edito appunto dalla San Paolo. Come ha detto Don Gabriele Amort, riportato in quarta di copertina, tante volte il demonio mi ha detto, a te non possiamo fare niente perché sei troppo protetto. E allora, vi leggo la presentazione. Attraverso una serie di conversazioni con Padre Gabriele Amort, negli ultimi anni della sua vita, trascritte con estrema fedeltà di pensiero e di linguaggio, Elisabetta Fezzi ci restituisce in questo libro un vero e proprio testamento spirituale dell'esorcista più famoso e più amato. Apprendiamo così particolari curiosi della sua vita, della sua vocazione e della sua attività esorcistica, da quando ragazzo si sente chiamato al sacerdozio, alle varie e diverse opportunità che la vita gli offre, l'azione cattolica e il lavoro politico con Andreotti, fino alla scelta complessa e faticosa degli ultimi 30 anni, dedicati a combattere il diavolo e a ricordare al mondo che la figura di Satana non va presa sotto gamba. Pagine che rivelano la personalità poliedrica del sacerdote Paolino, tutt'altro che richiudibile in un'immagine da uomo cupo, come spesso è stato descritto. Amort è certamente rigoroso, con sé innanzitutto, ma anche ironico, semplice come un bambino in alcuni momenti, capace di scherzare e di prendere la vita per il verso che la provvidenza gli offre man mano. La seconda parte del libro raccoglie, sempre grazie a Elisabetta Fezzi, una serie di testimonianze delle persone che gli furono più legate, da Rosa, che lo assisteva negli esorcismi, a due sacerdoti paolini, tra quelli che gli furono vicini anche nei momenti difficili, a padre Sanislao, il passionista che ne raccolse l'eredità. Le sue parole quelle degli amici, due modi per entrare nel mondo del più grande esorcista degli ultimi cento anni. Un libro, appunto, ricco di testimonianze, come abbiamo detto nella presentazione, da padre Sanislao a Rosa, a Fausto, tante altre persone che hanno gravitato intorno alla vita, appunto, di padre Gabriele Amort. E voglio leggere un passaggio, visto che comunque si tratta davvero di una conversazione tra padre Amort e appunto Elisabetta Fezzi. La domanda che le viene posta è un po' questa. Gesù comanda gli apostoli di predicare il Vangelo, di guarire gli ammalati e di scacciare i demoni. E' lecito domandarsi se la prassi della Chiesa oggi risponde alla consegna di Gesù? No, no, non risponde alla consegna di Gesù, dice padre Amort. Però mi rendo conto che anche i tempi sono cambiati, ossia in principio c'era bisogno, un vero bisogno di miracoli. Prima di tutto ne ha avuto necessità Gesù per far capire chi era. Se non credete alle mie parole, credete ai fatti. Quando Giovanni Battista li manda a quell'ambasciata, risponde diteli che i sordi guariscono, i morti risuscitano. Rimanda ai fatti per far capire la sua persona. E poi parla anche del primo miracolo. E poi dice comunque di miracoli che sono sempre stati, e ce ne saranno sempre, dice padre Amort. Ogni volta che viene nominato un santo, ci sono i miracoli della beatificazione e quelli della canonizzazione. Pensiamo all'Urd, a Meggiugorie. Ce ne saranno sempre di miracoli nella chiesa, ma non perché siano alla portata di tutti i sacerdoti, di tutti i predicatori. No, non per quello, dice padre Amort. Perché? Perché si deve puntare sulla fede. Io di miracoli non ne ho visti tanti, però credo. Anche voi miracoli non ne avete mai visti, però credete. E io penso che il Signore non farà mai mancare i miracoli. Io però non ne ho mai visti. Certo ho visto la mano di Dio. L'ho vista quando esorcizzavo. Ho visto la sua potenza. Ma ha fatto tutto lui, servendosi di un buono a niente come me. Ha fatto tutto lui. Parole molto belle, molto forti. Quelle di padre Gabriele Amort, riportate in questo libro che vi consiglio davvero di leggere, con una foto davvero particolare. Padre Amort che fa la linguaccia con il crocifisso in mano. Una linguaccia sicuramente, ecco, rivolta al demonio che lui ha sempre combattuto. Edito dalla San Paolo, padre Amort, la mia battaglia con Dio contro Satana, a cura di Elisabetta Fezzi. Una vita con i poveri, impegno sociale e politico, unità di terra e di cielo. Con queste poche parole, Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, presenta Don Armando Zappolini. Il libro che vi voglio intitolare si chiama Un prete secondo Francesco, contemplativo, sognatore e costruttore di ponti. Edito dalla San Paolo. Un libro scritto in prima persona, appunto, da Don Armando, che è parroco di quattro paesini del Pisano. Dal 2011 è presidente del coordinamento nazionale comunità di accoglienza e ha fondato la comunità terapeutica per persone tossicodipendenti di Usigliano. E nel 1993 è entrato in questo coordinamento, proprio con questa organizzazione. Ha conosciuto madre Teresa di Calcutta, è attivo anche nell'impegno contro la diffusione delle mafie per la promozione di una cultura della legalità. A questo proposito, leggiamo perché Don Armando ha deciso di scrivere questo libro. Ha detto, non lo scrivo perché ho l'esigenza di lasciare ai posti di traccia della mia vita. Non penso che la mia vita sia così importante da meritare di essere eletta dalle future generazioni. L'ho scritto per due motivi sostanziali. Il primo, dice Don Armando, è legato al fatto che la mia storia può essere quella di tanti preti di strada che vivono il loro servizio pastorale in mezzo alla gente. A differenza di molti di loro, io sono anche parroco, e la mia comunità mi ha aiutato a sostenere la resistenza creativa nei confronti di un'istituzione chiesa che non ha mai capito un altro mio modo di essere prete, quel modo che vivevo nella mia comunità di accoglienza per tossicodipendenti o tra le miserie dell'India. E poi il secondo motivo è che penso che questo libro possa essere anche uno strumento per diffondere un modo diverso di essere prete e di essere chiesa e trasmettere il messaggio che si può essere sognatori con i piedi nel fango, contemplativi e combattenti, impegnati in un servizio, ma anche capaci di cambiare un modello di società. Una sintesi che nella mia vita ho pienamente vissuto e difeso. Un prete, secondo Francesco, Don Armando Zappolini, Contemplativo, Sognatore e Costruttore di Ponti Questo libro è edito dalla San Paolo E concludiamo, mi piace questa conclusione, segnalandovi questo libretto che racconta tante piccole grandi storie con grande semplicità. Parliamo di Bruno Ferrero. Questo libro è edito dalla LDC per la collana Piccole storie per l'anima, si intitola Ci sarà sempre un altro giorno. Prendiamo una storia così, a caso, pescata tra le pagine di questo libro. L'indignato Accadde in Spagna, nel paese di La Roia, al tramonto di un giorno della Settimana Santa, durante la processione pasquale. Una folla accompagnava silenziosa il passaggio di Gesù Cristo e dei soldati romani che lo castigavano a frustate. Una voce ruppe il silenzio. A cavalcione sulle spalle del padre, Marco Srabasco gridò al frustato difenditi, difenditi. Marco aveva due anni, quattro mesi e ventun giorni. La gente stava a guardare. I capi del popolo invece si facevano beffe di Gesù e gli dicevano è stato capace di salvare gli altri, ora salvi se stesso, se egli è veramente il Messia scelto da Dio. Anche i soldati lo schernivano. Si avvicinavano a Gesù, li davano da bere aceto e gli dicevano se tu sei davvero il re dei giudei, salva te stesso. Un milione di volte al giorno Gesù viene ucciso e nessuno si indigna. Una bellissima storia firmata da Bruno Ferrero che ritroverete in questo libro intitolato Ci sarà sempre un altro giorno, edito dalla LDC. Con questa segnalazione vi ringraziamo per averci seguito. Prossimo appuntamento dalla libreria Padre Pio a San Giovanni Rotondo come sempre la prossima settimana. Prossimo appuntamento dalla libreria Padre Pio a San Giovanni Rotondo